L'impresa italiana sta molto cambiando nel corso di questi anni, la sua manifattura soprattutto. La transizione ambientale e digitale impone nuovi equilibri, ci rende in condizione di affrontare sfide molto complesse. La vecchia fabbrica a cui è abituato il discorso pubblico, la vecchia fabbrica fumosa, brutta, ostile, ripetitiva, non c'è più. Ci sono invece nuove fabbriche moderne guidate dai dati, dall'intelligenza artificiale, ambienti diversi, architetture diverse. Una impresa in metamorfosi. Ma questa metamorfosi, oltre che nuovi assetti economici, nuovi criteri di produttività, nuove scelte di competitività, chiede anche un nuovo racconto. Nuovi linguaggi. MADE, l'iniziativa dentro i programmi di Bergamo e Brescia, capitale della cultura impresa, coglie con grande esattezza questo tema. Nuovi linguaggi che hanno molto a che fare con le arti visive e con il teatro, con la letteratura e con la musica, con la fotografia e appunto con il cinema. Nuovi linguaggi per raccontare la trasformazione dell'impresa. Io credo che questa sia una sfida culturale e sociale di grandissima portata. Le nostre imprese devono aprirsi a racconto, essere pronte a farsi raccontare. E il pubblico, dal pubblico delle scuole, al pubblico delle istituzioni, al pubblico generale, dei cittadini e dei consumatori, deve imparare a guardare l'impresa superando pregiudizi, ostilità, diffidenze. Quella negativa cultura antimpresa che purtroppo è molto diffusa nel nostro paese. Il cinema. C'è una tradizione di rapporto fra il cinema e l'impresa. Vengono in mente i bellissimi lungometraggi di Herman Olmi negli anni 50 e nei primi anni 60 per Edison. Un film molto stimolante come quello di Silvio Soldini fatto per Pirelli nel 1987 per raccontare la trasformazione della bicocca da luogo della fabbrica Pirelli, 30.000 persone, al luogo della fabbrica della conoscenza. E poi una serie di altre iniziative tutte documentate in quel luogo straordinario di immagini e di testimonianze e di esperienze che è l'archivio storico del cinema e l'impresa curato da Valerio Costanovo e adesso contenuto negli uffici, nelle stanze dell'Università Liuc a Castellanza. Ma ci sono anche delle scelte contemporanee di cui dar conto. Per esempio, quel film molto bello che aveva aperto una recente Assemblea Nazionale di Confindustria con la regia di Luca Lucini e con un'ottima interpretazione di Alessio Boni e Cristiana Capotoni. 111, 111 come gli anni di Confindustria. E adesso recente L'anima dell'impresa, un lungometraggio a cura di Riccardo Festinese che è stato presentato lo scorso anno al MUDEC a Milano per la settimana della cultura e l'impresa e adesso nei giorni scorsi a Roma per un'iniziativa molto interessante di premio per il cinema e l'impresa. C'è insomma una identificazione molto corretta, come fa appunto Made del Cinema come strumento fondamentale di racconto. Di racconto dell'impresa, del racconto delle sue persone, di racconto delle tecnologie, di quella miscela molto italiana fra tradizione e innovazione che fa sì che le nostre imprese siano nel cuore dei settori più sofisticati ad alto valore aggiunto dei mercati globali. Ecco, il cinema per raccontare l'impresa, per raccontarne i valori, lo sforzo, l'intraprendenza, l'intelligenza, con una consapevolezza di fondo su cui vale la pena insistere. Quando si parla di impresa non si parla soltanto di un attore economico, di un attore sociale, di un soggetto che tiene insieme il tessuto sociale del paese. Quando si parla di impresa si parla anche di cultura, perché la cultura certo è un'immagine, è una pagina ben scritta, è un filmato, è un atto teatrale, è un'opera di arte contemporanea, ma un'impresa è ricerca, scienza, una formula chimica, un contratto di lavoro, un brevetto sui nuovi materiali. Un'impresa è la complessità del mondo in trasformazione. E questa dimensione chiede un nuovo racconto e, pensando a Made, chiede un nuovo cinema.